Buona serata, nuova edizione del TV giornale di Telestense. Tra le notizie di questa sera ci occuperemo della chiesa di San Domenico, una delle chiese salvate dal crollo dopo, ricordiamo ancora, il sisma del 2012. C'è stato oggi un sopralluogo in compagnia tra gli altri del prefetto di Ferrara, Michele Campanaro. E poi parleremo di politica, è scontro politico in particolare sui musei e sulle mostre, per cui sentiremo esattamente quello che è successo. Ci occuperemo però anche di notizie legate al litorale, in particolare all'area di Comacchio. Clara in particolare anticipa che il porta a porta si estenderà anche lì di nord. Sentiremo un'intervista realizzata proprio in questi giorni. E poi ci occuperemo di musica e di cultura. Il Conservatorio Frescobaldi inaugura l'anno accademico con un concerto che si terrà proprio domenica al Teatro Comunale Abbado. Sempre al Comunale, ma al Ridotto invece tornano i concerti. E quindi vi daremo ulteriori dettagli a riguardo anche su questo. Apriamo subito però dalla cronaca più che altro legata al meteo, perché potrebbe nevicare domani in ampie zone dell'Emilia Romagna, compresa anche la provincia di Ferrara. Arpa e Protezione Civile hanno infatti diffuso un'allerta di colore giallo, la più lieve, lo ricordiamo, per domani, giovedì 12 dicembre, quando è previsto il transito di una perturbazione di origine atlantica con precipitazioni deboli moderate già dalle prime ore della notte. Si prevede neve su tutto il territorio, ad esclusione della fascia costiera, dove i fenomeni saranno di pioggia mista a neve. I quantitativi previsti sono intorno ai 5 centimetri nelle zone di pianura, ma potrebbero essere fino a 15 nelle zone collinari. E parliamo adesso, come anticipato in apertura, di una chiesa chiusa dal terremoto del 2012, parliamo di quella di San Domenico, che si trova in Piazza Sacrati, salvata dal rischio crollo. Siamo stati a fare un sopralluogo e in arrivo ci sono milioni di euro per il restauro anche di altre chiese. Sentiamo. Una chiesa, quella di San Domenico, salvata dal rischio crollo, che con l'andare del tempo poteva man mano presentarsi. Una parte della copertura dell'abside crollò a metà del 2018, mentre l'ultimo cedimento risale allo scorso febbraio. Una chiesa inagibile dopo le scosse del terremoto di maggio 2012 risale ad allora la sua chiusura al pubblico. Ci vorranno anni prima che torni di nuovo agibile, ma ora, grazie a un importante intervento, la chiesa al centro di un procedimento negli ultimi tempi per capire chi fosse il proprietario è in sicurezza. È un intervento che abbiamo seguito come FEC, come Fondo di Edifici Culti, quindi come Ministero dell'Interno, dal momento che dal mese di settembre scorso è stato completato il percorso che ha intestato appunto al FEC e quindi alla Prefettura di Ferrara la gestione e gli oneri di manutenzione. Una fase in cui la curia, la diocesi, aveva mantenuto la titolarità del bene soltanto di recente, come dire, attraverso un approfondimento di carattere giuridico è venuto fuori che in verità il bene non era di proprietà della diocesi. Quindi sono stati in tempi invece direi molto rapidi i definiti passaggi che hanno consentito di mettere in capo alla FEC appunto la proprietà di questa chiesa. Una messa in sicurezza costata 273 mila euro. Ora manca la fase del cantiere più corposa e i primi lavori dopo la messa in sicurezza potrebbero vedersi nel 2021. Adesso, fatta questa prima messa in sicurezza, stiamo andando infatti in Prefettura con i tecnici della soprintendenza per avviare senza soluzione di continuità la fase successiva, cioè quella della progettazione per il successivo appalto dei lavori. La notizia buona che viene anticipata dal MIBACT, dal Segretariato regionale, è che una cifra che si attesta intorno ai 2 milioni e mezzo di euro è stata assicurata sul piano degli interventi post-sisma, post-terremoto, dal commissario straordinario per il sisma del 2012. Le chiese di Ferrara sono tra gli edifici maggiormente danneggiati in città dal sisma del 2012 e anche tra i più delicati, come la chiesa di San Giorgio fuori le mura, sul quale sono previsti 5 milioni di euro per il restauro e il miglioramento sismico in cui i lavori dovrebbero iniziare in primavera. Per quanto riguarda la chiesa di San Paolo, invece, sono previsti per inizio 2012. I lavori da 3,85 milioni di euro previsti per il recupero completo del Tempio. E adesso passiamo alla politica, parlando in particolare di culture e musei che diventano ancora una volta dibattito a Ferrara. Il PD ha realizzato due interrogazioni consigliari, una sul Palazzo Diamanti e l'altra sul vicino museo della Resistenza e Risorgimento. Sentiamo. Una visita notturna alla mostra di Palazzo Diamanti, Denitis e la rivoluzione dello sguardo, al centro dell'interrogazione scritta e firmata da Ilaria Baraldi, consigliere comunale d'opposizione del Partito Democratico. Secondo Baraldi, l'assessore comunale alla cultura Marco Guglinelli e il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, più una terza persona non identificata, la notte precedente all'inaugurazione della mostra si sarebbero recati a Palazzo Diamanti per una visita notturna attorno all'1.30. La consigliera così interpella ufficialmente il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, chiedendo un controllo sull'accaduto, se sia stata fatta una valutazione di sicurezza prima di questo accesso e se, continua Baraldi, si intenda utilizzare i beni monumentali di Ferrara come delizie per il tempo libero di chi per ruolo vi ha accesso privilegiato. Anche il futuro del Museo del Risorgimento e della Resistenza è al centro di un'altra interperlanza, sempre a firma di Ilaria Baraldi, consigliere comunale d'opposizione del Partito Democratico. Nella primavera del 2020 dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Diamanti che comporterebbero il trasferimento del Museo della Resistenza e del Risorgimento, scrive la consigliera, che interpella il sindaco e gli assessori competenti al fine di conoscere quale sia il progetto per il futuro del Museo a fianco del Palazzo Diamanti. E adesso passiamo alla cronaca. Coltivava piante di cannabis in casa, una residenza dove abita da solo e dove aveva tutta l'attrezzatura necessaria, una serra idroponica, termo, lampade e ventilatori. A finire nei guai, un 22enne dell'Ilo di Volano arrestato dai carabinieri di Comacchio e poi rimesso in libertà. La perquisizione domiciliare è scattata ieri sera dopo che il giovane era stato fermato per un controllo antidroga. Intanto parliamo anche di sensibilizzazione dei giovani sul consumo di droghe e prevenire il consumo di sostanze tossiche. Questo è lo spettacolo teatrale stupefatto, prodotto e realizzato dalla Compagnia Teatrale Itineraria di Colonio Monzese in scena martedì prossimo, 17 dicembre, in sale estense. L'assessorato alla pubblica istruzione, in collaborazione con l'assessorato alla sicurezza del Comune di Ferrara, promuove questa iniziativa che si inserisce all'interno del progetto Scuole Sicure, attualmente avviato con l'installazione di telecamere di sorveglianza davanti a cinque istituti scolastici del territorio comunale, il Copernico Carpeggiani, Labonati, De Pisis, Bachelet e Carducci. Adesso invece andiamo verso il mare perché anche lì di Comacchiesi Nord, quali nazioni pompose e scacchi, potrebbero essere presto interessati dalla raccolta porta a porta dei rifiuti da parte di Clara. Porto Garibaldi ha rappresentato un test importante quest'anno per un territorio che include residenti, ma anche seconde case e turisti. Sentiamo. La raccolta porta a porta dei rifiuti che nel 2019 è stata estesa a Porto Garibaldi potrebbe interessare anche lì di Nord nel 2020. Ad anticiparlo è il direttore generale di Clara S.P.A., Raffaele Alessandri. La scelta che abbiamo compiuto assieme all'amministrazione comunale di attivare il percorso della trasformazione del servizio da stradale a porta a porta da Porto Garibaldi è stata proprio scelta, una scelta che era dovuta alla configurazione di Porto Garibaldi. Porto Garibaldi ha circa 5.000 utenti, 2.500 utenti residenti, 2.500 utenti non residenti, diciamo turisti, quindi seconde case, con circa 300 utenze non domestiche che aprono per l'80% durante il periodo estivo. Questo è stato il progetto sperimentale che ci ha consentito durante il 2019 di avere i primi dati su un problema che è quello di affrontare la raccolta porta a porta, quindi un servizio che viene calibrato su appuntamento, con la presenza di turisti che naturalmente sviluppano la loro presenza sul territorio dei lì di Comacchiesi prevalentemente nel fine settimana e prevalentemente nel periodo agostano. Abbiamo avuto delle buone risposte, specialmente dall'utenza non domestica, abbiamo trovato alcune soluzioni secondo noi che possono mettere d'accordo la necessità di avere una qualità del rifiuto conferito con una flessibilità da parte dell'utente di poter gestire questo tipo di servizio specialmente in un territorio turistico come quello di Porto Garibaldi. Abbiamo affrontato alcune difficoltà, alcune criticità che ci hanno dato anche risposte su alcuni elementi che stimavamo potevano essere particolarmente delicati. Il progetto secondo me ha dato dei buonissimi risultati. Ipotizziamo di poterlo ampliare a partire probabilmente già dal 2020 sui lì di nord, quindi scacchi pomposa e nazioni, visto che Volano è già stato interessato a un servizio di raccolta porta a porta e poi per poterlo estendere nella zona più complicata, lì sì, veramente molto complicata dal punto di vista di logistica, che è quella dei lì di sud, lì di estensi e spina. E vi ricordo che di questo e d'altro si parlerà nelle prossime puntate di Progetto Comacchio. Ricordo che l'appuntamento è in onda tra le altre tutti i venerdì sera alle 20 su Teleestens. Parliamo adesso invece di musica perché prende il via l'anno accademico 2019-2020 del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e l'iniziativa sarà celebrata in particolare domenica 15 dicembre al Teatro Comunale Abbado. Sentiamo come. Domenica 15 dicembre alle 16.30 al Teatro Comunale Abbado si tratterà il concerto di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 che vedrà impegnata l'orchestra del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara sotto la direzione di Marco Titotto. docente di esercitazioni orchestrali. Il concerto è dedicato a Ludwig van Beethoven e anticipa le iniziative che si terranno nel 2020 per i 250 anni dalla nascita del compositore viennese. È inoltre il primo evento della importante ricorrenza dell'Istituto Frescobaldi fondato nel 1870 e che quindi a breve raggiungerà il traguardo dei 150 anni. In occasione della conferenza si è presentata la città Maria Luisa Vaccari neopresidente del Conservatorio Frescobaldi che succede a Francesco Colaiacobo. Mi accingo a questo cammino con fiducia molta fiducia nel direttore qui presente prima di tutto che sento persona molto amabile e molto 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 disponibile e collaborativa e che mi fa un grandissimo piacere per me in berbe e poi con la coscienza anche di appunto di poter perseguire un fine civico soprattutto nella formazione musicale dei ragazzi. Tra le tante iniziative si è fatto leva sul legame sempre più forte tra Conservatorio Frescobaldi e Ferrara Musica. Cercherò in tutti i modi di rinsaldare per quanto possibile di sviluppare sempre più la vicinanza la proficua vicinanza tra il Conservatorio e Ferrara Musica Ferrara Musica e il Conservatorio quindi un'asse che spero diventerà sempre più appunto proficua salda e fonte di collaborazioni assolutamente preziose per la formazione dei ragazzi e anche per la consera qui dentro. Il concerto di domenica 15 dicembre al Teatro Comunale sarà soltanto uno dei tanti appuntamenti che vedrà impegnati gli studenti del Conservatorio come evidenziato da Fernando Scafati all'inizio del suo secondo mandato triennale alla direzione del Conservatorio. Il 18 per esempio a proposito di interazioni abbiamo anche un piccolo evento organizzato dalla Prefettura al quale parteciperanno alcuni nostri studenti anche quello per inviti il 19 ci sarà un concerto alla Chiesa di Santa Francesca Romana in collaborazione con la Corale Veneziani anche questa è una delle istituzioni con le quali abbiamo un importante partnership e il 20 abbiamo un concerto al Teatro Nuovo in occasione appunto anche di una collaborazione il titolo è Music Film Intanto rimanendo sempre in ambito di musica venerdì 13 dicembre torna il terzo appuntamento con i concerti di musica da camera al ridotto del Teatro Comunale di Ferrara sentiamo dunque chi sarà il protagonista terzo appuntamento con il ciclo di concerti di musica da camera al ridotto del Teatro Comunale di Ferrara a cura delle associazioni Diamond Music Cultura e Art del Settecento e Perspective dopo l'esordio del 15 ottobre con il soprano Mirella Golinelli ed il chitarrista Riccardo Farolfi e dopo l'appuntamento di mercoledì 27 novembre con il duo Sandro Gori a Loboe e Michele Lai al pianoforte con musiche di Bartók Debussy Chopin Donizetti Grieg e Ponchielli l'apprezzato appuntamento torna venerdì 13 dicembre alle ore 21 protagonista della serata questa volta è Samuele Piccinini musicista diplomato all'Accademia Pianistica Internazionale di Imola vincitore di diversi premi e borse di studio in concorsi nazionali e internazionali attualmente pianista accompagnatore presso il Conservatorio di Bologna si esibirà proponendo sonate di Beethoven Schumann e Prokofiev il biglietto sarà acquistabile presso la biglietteria del Teatro Comunale Claudio Abado dalle ore 15 del giorno stesso la direzione artistica della manifestazione è affidata al maestro Riccardo Farolfi presidente di Diamond Music e dal soprano Mirella Golinelli e adesso invece in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 Telestense mette a disposizione spazi per messaggi elettorali a pagamento e gratuiti sentiamo l'annuncio questa emittente intende offrire ai soggetti politici interessati l'opportunità di diffondere propri messaggi autogestiti gratuiti in occasione delle prossime elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Emilia Romagna elezioni indette per il giorno 26 gennaio 2020 tale programmazione sarà effettuata in appositi contenitori di messaggi elettorali nei limiti e con le modalità previste dall'autorità garante e dalle leggi vigenti saranno accettati solo filmati da 1 a 3 minuti in standard tecnici digitali compatibili con la nostra tecnologia di diffusione inoltre dei messaggi politici gratuiti potrà essere effettuato previa autorizzazione del Coricom dell'Emilia Romagna presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara via Virginia Wolf 17 al massimo fino alle ore 12 di mercoledì 22 gennaio 2020 l'effettiva programmazione avrà corso entro al massimo 48 ore dalla consegna dei filmati per avere termine al massimo alle ore 24 di venerdì 24 gennaio 2020 la rotazione dei messaggi e l'ordine di messa in onda saranno basati sul sorteggio effettuato dal Coricom si informano pertanto i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente in 44 124 Ferrara telefono 0532 9089 fax 0532 61868 è disponibile il relativo regolamento il responsabile del servizio è la dottoressa Dalia Bighinati questa emittente intende offrire ai soggetti politici interessati l'opportunità di diffondere propri messaggi autogestiti a pagamento in occasione delle prossime elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale dell'Emilia Romagna elezioni indette per il giorno 26 gennaio 2020 tale programmazione sarà effettuata in appositi contenitori di messaggi elettorali nei limiti e con le modalità previste dall'autorità garante e dalle leggi vigenti saranno accettati solo filmati in standard tecnici digitali compatibili con la nostra tecnologia di diffusione inoltre dei messaggi politici a pagamento potrà essere effettuato presso la sede dell'emittente in 44-124 Ferrara via Virginia Woolf 17 al massimo fino alle ore 12 di mercoledì 22 gennaio 2020 l'effettiva programmazione avrà corso entro al massimo 48 ore dalla consegna dei filmati per avere termine al massimo alle ore 24 di venerdì 24 gennaio 2020 la rotazione dei messaggi e l'ordine di messa in onda saranno basati sull'ordine cronologico di prenotazione degli stessi si informano pertanto i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente in 44-124 Ferrara telefono 0532-9089 fax 0532-61868 è disponibile il relativo regolamento il responsabile del servizio è la dottoressa Dalia Bighinati e adesso ci ricolleghiamo a una notizia anticipata in apertura perché ricordiamo che domani c'è rischio neve che potrebbe interessare peraltro anche la provincia di Ferrara intanto a 100 è pronto il piano neve in convenzione con CMU Servizi il cui obiettivo è individuare le procedure da mettere in atto al fine di offrire in tutto il territorio tempestività di intervento sui fenomeni di gelo e di neve oggi sono state consegnate a tutte le scuole del territorio le forniture di sale e in nottata gli operatori saranno attivi per valutare la situazione e procedere appunto nella nottata a una prima salatura dei punti pericolosi a partire appunto dalle rotatorie sono a disposizione un coordinatore dei servizi 15 macchine operatrici di sgombero neve e 4 mezzi di spargimento sale nonché squadre per l'attività manuale di spalatura e adesso prima di chiudere il nostro tv giornale vi ricordiamo i programmi tv della serata di Telestense partendo dalle 20 quando andrà in onda campagna Mica News e dove si parlerà della gestione del rischio in agricoltura e della nuova campagna assicurativa al centro di un convegno tecnico organizzato da Coldiretti Emilia Romagna nell'ultima edizione di Futurpera 2019 alle 21.30 invece arriverà con i piedi per terra oggi il programma di attualità su agricoltura turismo ed enogastronomia del territorio con questo siamo in chiusura vi segnalo anche Telestense.it e i nostri spazi social Telestense la trovate su Facebook su Twitter e su Youtube ancora una volta dunque grazie per averci seguito appuntamento come sempre rinnovato alla prossima edizione Grazie a tutti